no a cuore, no a cuore aspetta che devo metterlo per sotto però troppo stare to? no, solo che la parte sopra ce l'ho io qua sopra di me si io dovrei stare davanti ma se mi metto davanti lei non vede niente esatto, però c'è dietro la sua cosa qua che è una porcheria signora tutto bene? tutto a posto? ok, io fermo qua mette il cadding scusimi che sono messo aspetta che tiro giù si ok ti fissi prima la testa io molo e ti aiuto sai? si, solo che ti metto qua a fare sennò non possiamo freghiarti ok, vai prima la testa fissiamola ok, aspetta solo un secondo che ce l'ho qua agli affari non voglio il cuscinetto non voglio il cuscinetto non voglio il cuscinetto cuscinetto dopo come è? sopra? come è? sopra? si si Siamo in asse, siamo giusti, ottimo. Mi parte? La cina è gialla. Gialla? Gialla. Verde. La cina è un po' al contrario, se non è la cina è la cina. No, è al contrario. Ok, adesso la dopo la giriamo. Ok, alzi, 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 alzi. Ok, lasciamo i cosciari. Signora, niente strutture, bacino, cosce, tutto a posto. Solo che qua che è girato. Non starviato, scusi, non si è creato. Non so che non so. Lo so. Ancora un attimo il zoom, che è girata, ottimo. Ok, siamo pronti? Stringiamo tutto. Questa ultima quando usciamo. Grazie. Sette. Pervi. Allora. Allora. Grazie. 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 Grazie.